Nella sua lunga carriera ha girato oltre 40 film. È considerato uno dei più grandi artisti della macchina da presa del cinema italiano. Poliedrico è passato dal genere horror all'epico, dal drammatico alla commedia, regalando al pubblico una serie di indimenticabili capolavori. Parliamo di Pupiavati, regista, sceneggiatore e scrittore bolognese, reduce ad 81 anni quasi compiuti, dal successo del suo ultimo film, Il Signor Diavolo, uscito nelle sale tre mesi fa. È stato lui l'ospite d'onore nel primo appuntamento di incontri d'autore, la rassegna trinitapolese dedicata al cinema a cura della Rascia 20 e patrocinata dall'assessorato alla cultura. Un talk show ospitato nell'auditorium dell'Assunta, dove uno dei più importanti protagonisti del grande schermo all'italiana, ha ripercorso davanti ad una platea molto coinvolta la sua esperienza artistica lunga oltre mezzo secolo. Un viaggio sospeso tra emozione, suggestione e divertimento, capace al tempo stesso di far sorridere e riflettere il pubblico. Un po' come accade in tutti i suoi film, storie di provincia che hanno raccontato l'Italia e la vita, che è fatta di soddisfazioni, successi, ma anche di errori. Per testimoniare quello che uno sa della vita abbiamo bisogno non solo del cinema, ma di tutto. Ognuno di noi avrebbe il dovere di dire quello che ha fatto, quello che è, soprattutto i propri errori, riconoscere i propri errori. Questo è un paese in cui nessuno sbaglia, sbaglia sempre quell'altro. E questo è un modo in cui non si cresce. Gli errori sono fondamentali nella vita per crescere. Se non cadi da cavallo e risali, tu a cavallo non si andrà mai. Quindi io penso che il cinema che ho fatto io è un cinema minimale che guarda a quello che io so della vita, dal punto di vista di un essere umano normalissimo come sono io, che ha guardato le cose della vita con gli occhi delle persone, genericamente di tutti gli altri.